Settimana calda per le società di Serie C. Il 22 giugno prossimo scadrà il termine per l'iscrizione al campionato 2022-2023 per molti club e corsa contro il tempo. Su tutti, facendo riferimento al girone dell'Avellino, con il fiato sospeso c'è il Messina. Il patrano scotto ha messo in vendita la società, al momento non è pervenuta nessuna offerta. L'altra grana da risolvere è quella relativa agli impianti sportivi in cui le società ne promosse giocheranno. Giuliano e Gelbison hanno risolto tali problemi. I primi, come è noto, hanno indicato come impianto lo stadio Partenio Lombardi di Avellino. I cilentani, invece, giocheranno al donato Curcio di Picerno. Al tempo stessi i club hanno dato via all'organizzazione degli asset societari e degli organigrammi tecnici. Il Catanzaro, dopo aver riconfermato Vivarini in panchini e scelto Magalini come direttore sportivo, nella giornata di ieri ha perfezionato il riscatto dell'attaccante Tommaso Biasci, rilevata a gennaio dal Padoved, autore di otto gol tra campionato e play-off. A Crotone, all'addio di Peppe Ursino, dopo 27 anni, ha corrisposto il ritorno di Raffaele Verenna, figlio del Patron Gianni, dopo l'esperienza alla Provercelli. Alla guida degli onici ci sarà Franco Lerda. I calabresi potranno contare sul tesoretto ricavato dalla cessione di Messias al Milan e su quello che potrebbe arrivare in caso di cessione di Augustus Carbo, cercato dalla Cremonese, che in queste settimane si è messa in mostra con la Nazionale della Sierra Leone. Per il momento, anche a causa della partenza ufficiale del calciomercato, che avverrà il prossimo 1 luglio, non ci sono stati tantissimi movimenti ufficiali, ma le trattative ci sono ugualmente, le intese stanno per arrivare.